Un fantastico video questa volta per conto di Ceccherini Music dedicato al Natale, ai regali di Natale ma in generale un video che va bene in qualsiasi periodo dell'anno se uno vuole fare un regalo musicale un regalo che abbia a che fare con la musica in questo video ci occupiamo per esempio di un metodo per cajon, le basi del cajon per autodidatta una pubblicazione che sotto i 15 euro dà tutti i riferimenti per iniziare ad intraprendere la strada del percussionista con a base il cajon e poi abbiamo un cajon vero e proprio, il cajon Oyster a 80 euro MDFSBSP-FSRED, bellissimo cajon ha un prezzo davvero contenuto il cajon è uno strumento molto versatile che permette anche di sviluppare per certi versi tecniche batteristiche e successivamente vi consigliamo proprio un gembè, un gembè economico un gembè molto bello, molto valido a 70 euro uno strumento per cimentarsi nella percussione portatile perché una delle caratteristiche del gembè è quella di essere trasportabilissimo successivamente abbiamo un metodo un pochino più elaborato, più completo per gli autodidatti dedicato al gembè ma questa volta la spesa è comunque contenuta sotto i 20 euro dato, diciamo, uno dei motivi è il fatto che ci sia la presenza di due DVD due supporti multimediali per supportare questo apprendimento del gembè una cosa utilissima è se utilizzate il tablet in modo professionale anche fuori dagli ambiti musicali per esempio nell'ambito della produzione multimediale se uno sta gestendo una diretta e ha bisogno di avere le presentazioni a portata di mano può utilizzare questo supporto Pro IPS03 della Proel a 18 euro possiamo parlare, per esempio, se uno vuole fare un regalo a un amico musicista o chitarrista e vuoi dare la possibilità di amplificare sempre con le giuste misure tenendo presenti due fattori la portabilità e il fatto di non dare troppo fastidio ai vicini, ai compagni di appartamento o alle persone che convivono con te è il Fly 3 Mini della Blackstar un amplificatore super portatile molto bello un lettorino che può essere caricato con delle basi musicali per leggere le proprie basi digitali le proprie basi di karaoke un prodotto innovativo, semplice da usare, Loki Fly numero 3 in questo caso siamo alla spesa di 249 euro per un supporto multimediale per le tue serate di karaoke o nelle feste per far partecipare le persone e cantare le canzoni più conosciuti del momento le canzoni più belle del momento successivamente parliamo della Air 192 4M Audio una scheda audio che abbiamo recensito anche in un video ad hoc un video specifico una scheda per acquisire due tracce contemporaneamente e avere la base che abbiamo già registrato nel monitor diciamo nelle cuffie per fare più tracce e fare piccole produzioni multimediali molto bella una scheda veramente valida a 129 euro i cavi reference tutta la serie di cavi reference made in italy, qualità, ingegneria, elaborata molto molto consigliati da Cecherini da sempre i cavi reference un bel paio di cavi un'idea potrebbe essere anche quella di regalare un set di tutto quello che serve al chitarrista o al cantante per esempio per il suo lavoro i cavi reference parliamo della cassa, del sistema audio combinato una cassa, un sistema di audio che contiene anche un mixer che è il sistema di audio combinato Free Pass numero 6 che ha la possibilità di collegare 5 canali bellissimo prodotto anche questo si continua con il microfono ProDype TT1 a 39 euro qualità, un ottimo compromesso qualità, prezzo per questo microfono dà le caratteristiche davvero eccezionali si va avanti con l'Ukulele Lux UK-21 a 40 euro l'Ukulele è stato sempre citato nelle ultime nostre recensioni come uno strumento super portatile anche questo si mette in uno zaino manca poco si mette anche in una tasca la chitarrina la piccola, il piccolo ukulelino ukulele UK-21 a 40 euro bellissimo regalo anche se uno se lo vuole fare per se stesso anche per sviluppare i principi fondamentali della tecnica che si possono studiare con un metodo il corso per principianti di ukulele la guida completa e illustrata personale dell'Ukulele scritto da Stephen Sprott molto bello a 12,90 e include diversi download che si ottengono tramite la lettura di un codice e andando su un sito specifico la tastiera Cassio SA76-77 a 60 euro tastierina portatile della Cassio dobbiamo ricordare che la Cassio ha sviluppato diversi tastiere che sono diventate epiche anche quelle proprio giocattoli che sono state un po' modificate dagli aggeggioni e sono diventati strumenti molto importanti nella produzione di musica noise e di certa musica campionata la Cassio SA76-77 con la possibilità anche di creare degli accompagnamenti abbiamo un video anche su questo nel nostro canale diversi video dedicati alla Cassio SA76-77 passiamo alla PSR-S63 Yamaha una tastiera un pochino più grande una tastiera un pochino più elaborata con i tasti più grandi ma comunque con determinate funzioni di facilitazione di accesso alla musica cioè con delle forme di autoapprendimento presenti nella tastiera tanti suoni, tanti ritmi musicali presenti in questa tastiera che comunque ha un prezzo molto basso per essere una tastiera a tasti grandi a 225 euro muta di corde per violino 4 quarti Alpha Hue AL-100 23,90 un set completo di corde per il violino 4 quarti bello, valido a 23,20 euro un buon oggetto questo da regalare tracolla artigianale a 30 euro molto belle le tracolle presenti nel negozio di Ceccherini Music a Firenze ci sono davvero tantissimi modelli tantissimi esempi di tracolle per chitarra o per basso o per chitarra acustica valide e molto comunque molto conveniente anche come prezzo 30 euro per le corde e per le tracolle artigianali di Ceccherini Music un supporto per clarinetto a 14 euro è uno strumento che permette di salvare spazio un dispositivo che permette di salvare spazio grazie al suo il fatto di essere pieghevole che si può portare tranquillamente poi si aprono queste zampette diciamo così e diventa il fantastico supporto per mettere il clarinetto quando non lo stiamo utilizzando durante la nostra performance schiudiamo questo super servizio dedicato ai regali di Ceccherini con il giradischi Numark PT01 Touring DJ a 80 euro una sorta di fono valigia la mitica fono valigia di qualche decennio fa per suonare il vinile che dobbiamo ricordarlo è tornato molto di moda è tornato come un supporto molto attuale molto bello e questa valigia questa sorta di fono valigia permette anche di trasmettere al computer tramite USB il nostro vinile la musica del nostro vinile quindi digitalizzarla poterla quindi trasportare mandare e insomma gestire tramite i supporti digitali così presenti nella nostra vita contemporanea questo è quanto un saluto dal vostro Cessar Martignone ci sentiamo presto su questi canali